Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen siamo qui oggi con un nuovo episodio di PES 2016 volevo innanzitutto augurare buon Santo Stefano a tutti quanti voi e speriamo che oggi Santo Stefano ci porti bene con queste altre due partite sempre ragazzi della divisione 12 potrei già andare in divisione 11 ma le sto usando un po' per allenarmi prima di tuffarmi nella nuova stagione quindi ragazzi vediamo subito come andrà la prima partita ragazzi subito l'avversario Godin fuori meno male ragazzi che non è andato dritto perché sennò serve solo contro il partito eh guardate bacio ragazzi un tocco di classe no rubino no 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 tiro subito parata tiro ancora dell'avversario palo palo dell'avversario attenzione sta cercando di segnare il nostro avversario stiamo soffrendo quello ragazzi andiamo subito con Neymar 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 scatenato Neymar dentro Caicedo Caicedo attenzione ancora tiro gol 1 a 0 ragazzi gol mancato gol subito la legge del calcio 1 a 0 andiamo così no subito pareggio ragazzi immediato non so che cosa è successo eccolo qua Roby Baggio guardate signori guardatelo che classe si è arbitro arbitro ragazzi mi danno ogni partita non mi danno i rigori ogni partita lasciate subito un commento e fatemi sapere che cosa ne pensate voi ragazzi quello per me era calcio di rigore netto che ha avuto la fortuna come me no 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 2 a 1 ragazzi no subito attenzione Caicedo sbaglia incredibile ragazzi davanti al portiere Caicedo che comunque non lo faccio giocare mai ha sbagliato ragazzi sono usato queste partite un po come allenamento quindi sto mettendo anche giocatori che non uso sempre anche per far riposare i soliti tipo le vandoschi ragazzi che ha riposto questo video l'am dentro bravo a fermarlo attenzione Caicedo è velocissimo Caicedo Caicedo signori Caicedo pareggio a bravo bravo era pure furicione ragazzi non ho capito mi ha dato il calcio di punizione per quale motivo non mi sono accorto del fallo che cosa sia potuto succedere non so ragazzi credetemi che cosa sia potuto succede se il mio avversario pensi che mi arrenderò perchè sto in 10 allora non mi conosce proprio c'è che spazio no ragazzi è un miracolo di Leali dentro Neymar la lancia subito attenzione attenzione che ha sbagliato devi uscire col portiere Baggio Neymar Neymar fermato attenzione ancora gestiamo palla centrocampo devo tempo leggere un po' ragazzi la do a Baggio vediamo un po' se lui mi piace inventare qualcosa attenzione dentro ancora attenzione Neymar è solo Neymar gol 3 a 2 3 a 2 tiki taka 10 passaggi in filo Neymar in filo 3 a 2 ragazzi tiki taka del Bologna-Barcellona nuovo no 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 ragazzi me la sono vista bruttissima mamma mia Baggio dentro The Young Nigel miracolo del portiere ma bellissima azione vediamo Nigel se rientra Nigel bravo bravissima tenere posizione no no parata miracolo e gol pareggio niente da fare ragazzi ha pareggiato con i tuoi non sono riuscito a selezionare il giocatore padone dentro Baggio Baggio non si ferma così facilmente Neymar Neymar se ne va attenzione Neymar ragazzi Neymar Neymar eh pareggio ragazzi ok la prima partita è punta in pareggio non mi posso lamentare bella partita poi 10 contro 11 per più di un tempo più nulli va benissimo così ah ragazzi ci vediamo fra poco con la seconda partita ok ragazzi eccoci giunti alla seconda partita di questo episodio e vediamo subito come va se no è felice a Totti ragazzi eh ma Totti contro Baggio vince ovviamente Baggio no sarà anche forte Totti ma Baggio è una leggenda qui attenzione ragazzi che l'avversario attacca giro faccio tutto l'avversario poi in avanti attenzione pallone dentro Robert Lewandowski 1 a 0 Robert Lewandowski molto bene ragazzi attivazione nuovo gol grande Robert Lewandowski vai così 1 a 0 prova subito l'avversario la timide reazione un angolo per lui non sono attento perché ragazzi è un buon avversario attenzione colpo di testa fuori di nulla appunto ragazzi secondo me è più bravo di quello di nulla sfruttare meglio la scuola attenzione per andare colpo di tacco guardate con Roberto Baggio ragazzi guardate che che maestosità Baggio ragazzi lo faccio provare a tirare tiro di Baggio dalla distanza comunque è arrivato un po' il car che tiro Roberto Baggio subito spazziamo via la palla non è dentro Baggio ragazzino che cazzo ha fatto attenzione dentro Robert guardatelo Robert ancora tiro parata grande Robert mellandoski fermato vimpallo ancora dentro Caicedo ha preso palla a Caicedo parata ancora non è finta pallone dentro fermato dentro Lewandoski Lewandoski per Caicedo anticipato che mi sta sorprendendo sempre di più attenzione che se ne ha dato prova il tiro attraversa incredibile attenzione che se ne vada solo è solo dentro pareggio pareggio dell'avversario ragazzi nulla da fare guardate Baggio ragazzi guardatelo dentro ma guardate le magie lui faccio se non è l'avversario che avanza taglio in mezzo se ne va se ne va l'avversario dentro e gol sul pallone niente da fare ragazzi su quella fascia Fizzawa non mi sta piaccendo è lento ok roberto Baggio avanza roberto Baggio va roberto Baggio è sempre qui solo un ragazzo buchissimo pallo sull'azienda da dietro tocchi ha fatto un buchissimo pallo con tocchi ragazzi no subito in mezzo fatta dentro pallone dentro vedo eh si vede che si vede mamma andiamo dentro pallo attenzione ancora rimpallato qua ancora siciliano sui giratino miracolo del portiere miracolo del portiere che mi nega il dio pari eh ragazzi finisce così questa partita l'ho persa 2 a 1 però comunque la squadra gira bene non mi posso lamentare ragazzi se l'episodio vi è piaciuto lasciate come sempre like commentate condividete sotto trovate i miei contatti mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale per continuare a seguire la serie di PES probabilmente fra qualche tempo vi porterò anche le stagioni online o se volete anche il Champions League Europa League Offline però sono più propenso a portarvi le stagioni online allora ragazzi qui da un giorno dell'83 è tutto ci vediamo al prossimo video Bella ciao